Sul sito Stardust Records sono disponibili le partiture per pianoforte e marimba. Eleganti libricini in formato A4 contenenti spartito dell'intera opera per pianoforte e marimba, più parte separata. Un insolito duo. I loro strumenti sono il pianoforte e la marimba, che dialogano con la massima spontaneità in un connubio di sonorità suggestive, rendendoci partecipi di un ascolto attento alla grande musica del repertorio classico. Francesco Bissanti e Angelo Lamanna sono i protagonisti dell'opera musicale dell'intera suite Scaramouche, del compositore francese Darius Milou. Eccellenti compositori e arrangiatori dell'opera La Rhapsodia Russa, originariamente scritta per due pianoforti dal grande Sergei Vasilievich Rashmaninov. Aninov, composizioni realizzate per Stardust Records, come l'interessante opera di Sguardi e Dissonanti, realizzata da Bissanti per pianoforte, e Gimnopedie, del francese Eric Satie. Le partiture complete saranno fornite con la parte separata di ogni opera. Potete richiedere le partiture delle opere collegandovi direttamente al sito ufficiale di Stardust Records e inviando la vostra richiesta verrete ricontattati da personale qualificato per ricevere tutte le informazioni utili.